Come da tradizione di ogni venerdì santo, il 29 marzo Cantiano tornerà indietro di 2000 anni, col paese alle pendici del Catria, pronto a revocare gli scenari della Terra Santa, diventando palcoscenico della Turba, ovvero la solenne rappresentazione che ripropone nelle forme del teatro popolare e religioso la passione, morte e ressurrezione di Gesù Cristo. Un momento che coinvolge l'intera Cantiano come ricordato questa mattina nella presentazione avvenuta nella sede peserese di Confcommercio, alla quale Cantiano è legata come uno dei 25 comuni degli itinerari della bellezza. La Turba è un orgoglio per tutta la comunità ed è un momento corale in cui più di 200 figuranti si sottraggono alla loro quotidianità per entrare in un clima particolare in cui ognuno si sente attore protagonista di quella che è una rappresentazione teatrale che ormai calca le scene internazionali. Quindi siamo tornati alla Turba classica dopo il momento di difficoltà del paese che ha rivisto comunque la Turba anche svolgersi lo scorso anno, a meno di un anno dall'alluvione del 2022 e quindi torniamo nel suo massimo splendore. È una tradizione secolare dal 1400-1500 che quindi a Cantiano si realizza la Turba in varie forme ma anche un coinvolgimento del paese perché viene realizzata in varie parti del paese, tre in particolare. Quindi abbiamo nei giardini pubblici dove avviene l'ultima cena, la cattura, poi c'è nella piazza Luceoli dove è lì la parte centrale dove è il processo, quindi dove Gesù viene portato di fronte al cospetto dei sacerdoti, di Erode e di Pilato e poi c'è la salita al Golgotha che è la terza scenografia, che è una scenografia naturale sfruttando una collina che è sopra Cantiano. Interpretò il personaggio di Erode che in quei giorni appunto veniva apposta per conoscere questo fantomatico Gesù. C'è il sentimento ancora più forte perché essendo appunto di Cantiano la sento, sento queste radici, sento questo peso dei cento anni, per comunque cento anni che si fa la Turba. Diventa proprio Cantiano un teatro a cielo aperto in cui accogliere i turisti che trovano nella Turba non solo uno spettacolo coinvolgente ma anche proprio una esperienza emotiva e per chi è credente anche religiosa di grande impatto.